Io in Convergo per me è stato utilissimo il conoscere dei grandi professionisti che poi sono diventati amici, perché è da sottolineare anche questo, con cui collaborare e con cui proprio chiedere, farsi aiutare per sviluppare e far crescere sempre di più la mia attività e l'azienda in cui lavoro, insomma, nella mia azienda. Questo è stato fondamentale per me, prima ancora del conoscere clienti, cambiarsi contatti o fare business proprio produttivo. Per me l'utilità principale è stata proprio quella di aiutare me e la nostra azienda a svilupparsi e trovare quelle competenze, che è chiaro che uno poteva dire le cerchi da qualche... cioè, fai anche su Google le cerchi, quello che ti serve, no? Però non è la stessa cosa, qui hai conosciuto persone che sono dei grandi professionisti, hai avuto modo di conoscerli nel tempo, nelle vari mesi, cui hai fatto le colazioni, i pranzi, le cene, quello che è, tutti insieme e quindi parti già, che devi solo decidere il lavoro, no? Cioè, a parte con collaborare, questa è stata una figata.